La lunga serie e prestigiosa dei compositori che l'Accademia può annoverare si è allungata notevolmente e con grandi personalità anche nel corso del ventesimo secolo e dell'inizio del ventunesimo. Fra questi si può ricordare Stockhausen per esempio, che è un musicista come altri, come Azio Corgi, come Adriano Guarnieri, che hanno donato una loro composizione appositamente scritta per l'Accademia, un po' richiamandoci quindi alla tradizione che già avevano seguito i compositori che li avevano preceduti. Oltre ai compositori l'Accademia ha aggregato sempre secondo la tradizione anche importantissimi esecutori. I cantanti per esempio nel corso del ventesimo secolo, importanti, alcuni di quali tuttora hanno delle attività legate all'Accademia come Mirella Freni, soprano, Nicolai Yaurov oppure Ruggero Raimondi, oppure anche importantissimi direttori come Claudio Abbado e Riccardo Mutti. Claudio Abbado per esempio è direttore artistico stabile anche di un'importantissima iniziativa, quale l'Orchestra Mozart che ha sede proprio all'Accademia Filarmonica. L'Accademia, grazie all'aggregazione di questi musicisti, ha avviato negli ultimi 50 anni una notevole attività sia di studi musicali, musicologici, di concerti e anche di perfezionamento musicale per giovani musicisti. Inoltre l'Accademia ha realizzato notevoli pubblicazioni di carattere musicale, musicologico e attività di varia natura intorno alla musica, agli strumenti musicali. Ha pure anche contribuito a diffondere la musica con una serie di attività dedicate alle scuole, con spettacoli, visite guidate, sia al proprio patrimonio, alle proprie collezioni, sia durante i concerti che in questo modo hanno potuto essere seguiti da diverse centinaia di allievi delle scuole della Regione.